Cari amici, sono Gianfranco Rogeri, sono qua all'albergo Rucciola di Santo Stefano al Mare in questo periodo di coronavirus. Oggi è la vigilia della Santa Pasqua 2020. Volevo fare a tutti i miei amici, a tutti gli ospiti dell'albergo, a tutte le persone che conosco, volevo fare il più caro auguro di una Santa Pasqua. Che questa Ressurrezione del Signore sia anche per noi la Ressurrezione da questi problemi, da questa grave malattia, soprattutto per le persone colpite da lutti, colpite dalla malattia, per quelli che sono così impegnati per dare sollievo agli ammalati, volevo fare i miei più cari auguri di una Santa Pasqua e di una Ressurrezione nel Signore. Buona Pasqua a tutti! Grazie!